Il male non è confinato ad un tempo, ad un luogo, o ad una forma. Rimane in attesa dormiente, solo per rivegliarsi e tornare a distruggere. Non possiamo affidarci solo alla nostra volontà, ma dobbiamo cogliere ogni battaglia, sconfiggere ogni nemico, per difendere la nostra terra. Mentre il male cambia le ragioni per cui si combatte, noi cambiamo il modo in cui si combatte. Transformers 3, il video gioco.